Inflazione alle stelle anche nel mese di luglio in Italia, archiviate le vacanze, per molti sono già un lontano ricordo, ci sarà da fare i conti letteralmente con il caro vita. Il costo dei beni di prima necessità ha subito un'impennata, è quanto emerge, da uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori che ha stilato anche la classifica completa con i maggiori rincari annui. A guidare la classifica della città con gli aumenti più marcati è Cosenza dove per cibo e bevande si registra un rialzo del 13,1%. Arezzo insieme a Padova, Forlice, Sena e Olbia Tempio è nona a livello nazionale con un aumento di oltre l'11%, esattamente l'11,4%. La spesa per una coppia con due figli passa da una media di 564 euro a 769 fino a 919 per le coppie con tre figli o più. Quando si passa alle voci energia elettrica, gas o altri combustibili, lì sono veramente dolori. Il rincaro a luglio è stato di quasi il 60% in più. A vincere la classifica dei cittadini più bastonati, afferma l'Unione dei Consumatori e Bolzano, dove le spese per luce e gas decollano oltre il 107%. Grazie a tutti.